Il Signore a Pietro Francesco ha affidato la Chiesa. Non è a coloro che tendano di essere loro gli interpreti della parola di Dio, aprendo delle ferite nell'unità del corpo ecclesiale. La cattedra è il segno di colui che guida la Chiesa, insegna, guida, governa, santifica. E oggi sulla cattedra di Pietro il Signore ha voluto Papa Francesco. Ha bisogno della nostra preghiera, ha bisogno della nostra obbedienza, della nostra fedeltà. Nel nostro sentirci legati a Lui non solo dalla fedeltà che è dovuta, ma da un affetto singolare, legati a Lui da un amore grande. E aiutiamo Lui, attraverso la nostra preghiera, a continuare con forza e con quella peculiarità che gli appartiene, la nave di Pietro, la Chiesa. Grazie. 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 Grazie.